Qui per me c'è aria di famiglia. Mio padre e mia nonna appartenevano alla vostra associazione. Con queste parole Papa Francesco ha salutato i numerosi membri di Azione Cattolica Italiana giunti in Piazza San Pietro per celebrare i 150 anni di fondazione. A tutti, in un clima di festa contagiosa, il Pontefice ha chiesto di vivere all'altezza della propria storia nel solco dei grandi esempi di santità, sempre radicati in parrocchia che non è una struttura caduca, gettando il seme buono del Vangelo nella vita del mondo attraverso il servizio della carità, l'impegno politico, la politica grande con la P maiuscola, la passione educativa e la partecipazione al confronto culturale. Siate viandanti della fede, ha insistito, per incontrare tutti, accogliere tutti, ascoltare tutti, soprattutto nelle periferie, facendo di ogni iniziativa, ogni proposta, ogni cammino, un'esperienza missionaria destinata all'evangelizzazione e non all'autoconservazione. Avere una bella storia alle spalle non serve però per camminare con gli occhi all'indietro, non serve per guardarsi allo specchio, non serve per mettersi comodi in poltrona. non dimenticare questo, non camminare con gli occhi all'indietro, farete uno schiampo, non guardarsi allo specchio, e non mettersi comodi in poltrona. Questo ingrassa e fa male al colesterolo. Fare memoria di un lungo itinerario di vita aiuta a rendersi consapevole di essere popolo che cammina, prendendosi cura di tutti, aiutando ognuno a crescere umanamente e crescere nella fede. condividendo la misericordia con cui il Signore ci accarezza. L'appuntamento si è concluso con la recita della Regina Celi che Papa Francesco ha guidato dal Sagrato della Basilica Vaticana. Il Pontefice ha ricordato la beatificazione di Leopoldina Naudè, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia, e ha ringraziato per il viaggio apostolico compiuto in Egitto, pregando per il suo popolo tanto accogliente, per le autorità e per i fedeli cristiani e musulmani.